Il mistero del bosco In un bel bosco viveva un vecchio bufosaggio che conosceva trucchi e segreti, tra cui il potere magico di una corona scacciaguai. Un giorno l'animale del bosco, uscendo dalle loro tane, si è accorso che tutto si era fermato. Non tirava un alito di vento, c'era un grande silenzio e il sole sembrava non voler tramontare mai. Il bufosaggio disse a tutti, rimanete sicuro nelle vostre case perché qualcosa di brutto e pericoloso sta succedendo. Passarono giorni e gli animali erano ancora chiusi nelle loro tane. Niente era cambiato. E anche le mamme e papà iniziarono a sembrare preoccupati. Nel nido sull'albero, chicco il picchio continuava a chiedere, chiedere, chiedere. Voglio l'acqua, voglio un gioco, voglio uscire. E se non veniva subito esaudito, strillava, piangeva e picchiava il becco contro il tronco. Nel tanneto dello stagno, Sandra la papera se ne stava, straiata, tutta annoiata. Uffa, non so cosa fare. Con i miei amici vorrei giocare. E non posso nemmeno nuotare. Uffa. Nel suo tunnel sotto le radici, ciccerriccio voleva tenere il suo ciuccio tutto il giorno. Raddrizzava le acquelei sulla schiena, così nessuno riusciva ad addicinarsi per portarlo via. Uffa, non so cosa fare. Nella sua tana sul pino, agì lo scogliettolino che da tanto tempo aveva tolto il pannolino. A ogni minuto gli scappa un goccino. Uffa, uffa, uffa. Nella sua grotta fra le nocce, Marta la marmotta, pensava alla sua amica che aveva la febbre. Continuava a camminare avanti e indietro e reguita. E le scendevano grossi lacrimoni. Non posso nemmeno andarla a trovare. Uffa. Il tempo era lungo, non passava mai. Serviva a fare qualcosa. Ma cosa? Il gufo sangio chiamò. Uhu, uhu, uhu. Ma Anna e papà, so io cosa fare. La corona magica scaccia guai e posso regalare. Presto, presto. Cercate nelle vostre tani qualcosa per voi di speciale, che nella corona si possa incastonare. Così i suoi poteri magici, tutti insieme, possiamo attivare. Come questo regalo prezioso potrà aiutare i nostri amici? Chico il picchio e la sua mamma corse a cercare il pezzettino di corteccia più ruvido dell'albero. Sandra la papera, insieme a papà papera, trovò la piuma che le aveva regalato la sua amica del cuore. Ciccio il riccio, insieme alla sua mamma, si precipitò a cercare la scatolina dove era conservato il suo primo aculeo. Gino lo scogliattolino, insieme alla sua nonna, prese un'alianda più grande del loro albero. Marta la marmotta, insieme al suo papà, trovò il legnetto rosicchiato ed inciso con i suoi primi dentini. E tutto questo grande affare i brutti pensieri fa dimenticare, perché insieme ce la si può fare.